Io come potevo sapere che Gervinio non faceva un cazzo e Ossolini mi faceva assist? Ho dovuto fare una scelta, solo che ovviamente Gervinio il gol l'ha fatto, gliel'hanno annullato perché inglese era in buro gioco. Gervinio se non fa gol gliel'ha nulla. Ma il voto va a fare punteggio o no? C'è, è quello che serve. Comunque uno che fa il gollo maio all'uno non dovrebbe avere un punteggio altrimenti. Ha preso 5 e mezzo. Ma perché? Vabbè perché è l'unica azione che ha fatto. Ho visto la partita, è stata un po' una merda. Però dai. Io stamattina ho perso un'altra promo. Eh vabbè. Dobbiamo farci forza. Ma ste prestazioni? Che so sti 24 fps? C'è assurdo che io... Cioè il fatto è che qua questo gioco quando perdi la promo per il rank dopo Perdi più o meno... Cioè praticamente arrivi a 100 e iniziano le 5 partite di piazzamento, no? E ne devi vincere almeno 3 dalle 5. Cioè se perdi la promo ne perdi tipo 40 punti, quindi torni a 60. Devi vincere un altro paio di partite. Il punto è che... Che schifo di skin, vabbè. Il punto è che appena... 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 Perdo la promo... A Dennis gli ha fatto l'autogol a Cepitani. Coraggio. Appena perdeva... No, ma Gianluca ho il tigrotto, Danny. No, no, ma che cane. Che palle. Cioè allora... Per me... E' meglio se Danny sperde. Però il tigrotto non combino. Che è successo? Che è successo? Non ci credo. Che è successo? Non ci credo. Non ci credo. Che è successo? Vabbè, aiuto. Non ci credo. Che è successo? Che è successo?